Si appresta a festeggiare un complanno importante, la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, che il prossimo 23 aprile spegnerà 55 candeline, anni importanti che raccontano attraverso le evoluzioni, i problemi e i cambiamenti intervenuti nel settore agricolo anche la realtà del mondo imprenditoriale abruzzese. Forte di un'esperienza che ha superato il mezzo secolo, la Fiera dell'Agricoltura è e resta un qualificato punto di riferimento per tutto il comparto. Quest'anno sono 250 le ditte espositrici e 200 quelle costruttrici giunte praticamente da tutta la penisola. Manca infatti solo la Liguria e questa è la testimonianza concreta di come questa rassegna abbia da tempo superato i confini regionali. Il settore agricolo, l'unico che in questi anni difficili ha registrato una crescita e tornato ad essere una risorsa fondamentale non soltanto per il territorio abruzzese e la scelta del presidente Franco Ferrante di tutto il CDA di puntare all'innovazione e alla sostenibilità si è rivelata interessante e vincente. Franco Ferrante, presidente di Lanciano Fiera, oggi in conferenza stampa. Le macchine agricole che saranno esposte e tutti gli accessori legati al mondo agricolo avranno come tema principale la massima sicurezza. Anche la convegnistica partirà proprio con un tema sulla sicurezza nel mondo del lavoro agricolo. Nel frattempo abbiamo l'innovazione perché sono macchine nuove anche con qualche presentazione di qualche casa costruttrice che fa la prima presentazione qua proprio a Lanciano Fiera. Inoltre bisogna ricordare che questo è un filone che abbiamo già cercato di presentare anche nel mese di febbraio con una fiera apposita solo legata alla specializzazione. Nei tre padiglioni della fiera saranno ospitati mezzi, macchine, attrezzature per la coltivazione dei terreni, macchine olearie e per il vino, prodotti e sistemi per energie alternative, per le attrezzature zootecniche, poi piante, fiori, sementi. L'area esterna come sempre accoglierà grandi e piccoli macchinari, la parte importante anche in questa edizione, quella dei trattori. Saranno presenti tutte le associazioni di categoria e come ogni edizione anche questa potrà contare su un nutrito programma di convegni, incontri e tavole rotonde che affronteranno temi relativi al settore agricolo di attualità. Il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. Quando ci siamo insediati cinque anni fa i revisori dei conti stavano portando i registri contabili in tribunale perché la fiera era in passivo da tre anni, noi abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo nominato Franco Ferrante, abbiamo rinnovato tutto quello che c'era da fare e finalmente da allora la fiera è inattivo, quindi un percorso virtuoso che si associa a una progettazione innovativa che fa della fiera un punto di riferimento non periodico ma dovrà esserlo giornalmente. Infatti in questa palazzina verranno collocati dopo la fiera dell'agricoltura gli uffici dell'Uma, dell'Uta, del Genio Civile, quindi un polo di servizi importante. In più quello che ci fa più piacere è che la regione ha creduto in questo progetto e ci ha finanziato con 250 mila euro la ristrutturazione del padiglione 2 che verrà allestito subito dopo la fiera, stiamo progettando in maniera tale da avere a disposizione uno spazio tecnologico attrezzato, capace di ospitare grandi eventi e non solo fiere.